Ringrazio di cuore la comunità scolastica, le ragazze e i ragazzi dell'ITI, Renato Elia di Castellammare di Stabbia per il bellissimo omaggio che mi hanno fatto con la loro tecnologia, con il loro talento e con il loro entusiasmo. Non vedo l'ora di incontrarvi, spero da voi a Castellammare in modo da guardare come producete i lavori e anche per confrontarci un po', chiacchierare un po' e stare un pochino insieme. Per adesso grazie, sono stato davvero contento del pensiero che avete avuto nei miei confronti.